Ciao sono Silvia, bentornato sul mio canale. Oggi voglio iniziare questo video con una breve prefazione divisa in tre step. Primo step voglio ringraziare tutti coloro che ascoltano i miei contenuti perché il mio canale è arrivato alle 6.000 visualizzazioni e si è messo in proporzione al numero degli iscritti è un numero veramente importante quindi volevo condividere il mio entusiasmo e la mia gioia con tutti voi. Evidente che i contenuti che trovate sul mio canale sono interessanti, sono da voi giudicati come contenuti di qualità e quindi di questa cosa voglio ringraziarvi e mi raccomando continuate a suggerire ai vostri amici di iscriversi al mio canale per trovare utili consigli su come affrontare il mondo del lavoro. Il secondo step voglio avvisarvi il video di oggi è un video particolare nel senso che siete abituati a sentirvi dare sempre consigli e suggerimenti su come scrivere un cv efficace, su come elaborare una buona lettera di presentazione. Ci siamo lasciati la settimana scorsa parlando di LinkedIn. Questo video si allontana un attimo dal format del mio canale perché ho deciso di condividere con voi una notizia e di chiedervi al termine di questo video di scrivere nei commenti quello che è il vostro punto di vista. Se questo video avrà successo e me ne renderò conto dal numero dei commenti e dal numero delle visual vorrei proporre un video al mese in cui parlare di un argomento di attualità che possa interessare tutta la platea degli iscritti al mio canale. Quindi per questo motivo ho bisogno di voi. Commentate il video ed esponete il vostro pensiero circa il tema che tra poco vi andrò a spiegare. Il terzo e l'ultimo step di questa lunga prefazione è quella di chiedervi di pensare ad un argomento specifico. Può essere un vostro dubbio, può essere una vostra curiosità, qualcosa che non avete mai chiesto recruiter e che vorreste fosse approfondito nei miei prossimi video. Di questo modo riuscirò a fare i video sempre più personalizzati in base alle vostre richieste e alle vostre necessità. Grazie davvero se volete aiutarmi in questa programmazione del mio canale. Detto questo oggi parto da una discussione, diciamo così un confronto in realtà, che c'è stato nei giorni scorsi su un gruppo LinkedIn a quale io mi sono iscritta e il fulcro del discorso era. È possibile che in Italia se hai sempre lavorato in un determinato settore e poi arriva la pandemia, arriva comunque una crisi e sei costretta a cambiare settore, è così difficile in Italia cambiare settore professionale e reinventarsi? Partiamo da questa domanda e cerchiamo di capire se davvero nel nostro paese cambiare settore professionale è diventata una mission impossible. Devo ammettere con un po' di rammarico che tra le persone che in quest'ultimo mese si stanno affidando ai miei servizi di consulenza per la ricerca del lavoro, tante persone in realtà sono già occupate attivamente sul mercato del lavoro ma cercano altro. Quali possono essere i motivi per principali che spinge una persona a lasciare un posto di lavoro, spesso anche un contratto, a tempo indeterminato per reinventarsi? Beh, allora, in cima alle motivazioni da quello che ho potuto appurare è l'insoddisfazione. Un'insoddisfazione derivante dal fatto di non sentirsi più stimolato e motivato sull'ambiente di lavoro, di non sentirsi motivato e gratificato da parte del proprio responsabile, del datore di lavoro o magari dei colleghi dello stesso team. Come ultima motivazione, strano ma vero, la maggior parte delle volte che una persona cerca di cambiare lavoro, l'ultima considerazione che fa è quella legata alla mera retribuzione. Quindi per le persone e per candidato è fondamentale sentirsi parte integrante della vita aziendale. Quando è utile cambiare settore professionale e quando non si riesce a cambiare settore professionale? Io non vi dirò la mia opinione, non esprimerò in questo video il mio punto di vista. Voglio soltanto guidarvi ad alcune riflessioni e fare in modo che poi siete voi, nei commenti che volete lasciarmi poi al termine di questo video, a tirare le somme. Partiamo dalle motivazioni che spesso non ci permettono di attuare quel cambio di atteggiamento mentale tale per reinventarci e cambiare settore professionali. Quali possono essere i motivi alla base di non voler cambiare settore professionale nonostante se magari siamo consapevoli che il lavoro che facciamo ci sta in qualche modo portando a perdere un po' anche la fiducia in noi stessi. Beh, molto spesso abbiamo paura, abbiamo paura di effettuare le scelte sbagliate, abbiamo paura di lasciare la strada vecchia per una strada nuova che non sappiamo dove ci condurrà. Io noto anche nelle persone che spesso si affidano a me una scarsa fiducia in se stesse, una scarsa autostima e per ultimo una scarsa considerazione in quelle che sono le opportunità che ci dà il mercato e anche una scarsa considerazione nelle persone guida, prima per tutti chi si occupa proprio del processo di selezione del personale che tendono ad essere troppo settoriali. Ovviamente io parlo sempre dal punto di vista delle persone con cui mi rapporto tutti i giorni e che decidono di raccontarmi la loro storia privata prima che professionale. Da dove bisogna partire per cambiare il proprio settore professionale? Innanzitutto dobbiamo spostare il focus, spostare la nostra attenzione dal mercato verso noi stessi, ovvero dobbiamo cercare di capire quali sono le nostre soft skills, quelle competenze trasversali che noi possiamo rivendere anche in un altro settore professionale. Dobbiamo prendere consapevolezza che ci saranno degli aspetti che riguardano la ricerca del lavoro che noi non possiamo tenere sotto controllo. Questa è una cosa che spaventa alcune persone, ecco perché il consiglio è quello di affidarvi ad una professionista. Ci sono degli aspetti che non dipendono né dalle vostre competenze né dalla vostra professionalità, ma sono delle forze esterne, il mercato, l'ambiente, il momento storico, il momento economico, che dettano tutta una serie di variabili. Il secondo consiglio che posso darvi nel caso siate interessati a cambiare il settore professionale è quello di guardarvi intorno e adottare una specie di apertura mentale e considerare che per entrare in contatto con quell'azienda ci sono tanti modi, quindi non fermatevi al mero invio del curriculum, ma considerate tutta una serie di modi alternativi con cui potreste venire a contatto con l'azienda o potreste venire notati comunque da chi si occupa di selezione del personale da parte dell'azienda a cui siete interessato. Il terzo step per cambiare il settore professionale è quello di riconoscere i propri punti di forza, il proprio valore, la propria unicità. I candidati sono diversi, ogni candidato ha la sua storia, ogni persona che si fida a me e mi racconta la sua storia e mi rendo conto che ha un vissuto diverso rispetto ad un altro candidato. Ognuno di noi ha la sua unicità, ha qualcosa in sé che lo rende unico e speciale. Prima ci accorgiamo di che cosa ci rende unici, prima riusciamo a trasmetterlo anche al recruiter e a chi deciderà un giorno prima o poi di darci comunque una, di tenderci comunque una mano e di darci un'opportunità lavorativa. Ovviamente se sono interessato a cambiare settore professionale dovrò iniziare a creare un network, dovrò iniziare a relazionarmi con altre persone, una specie di mutuo aiuto. Io aiuto te, tu aiuti me, io ti do un suggerimento a te, tu dai un suggerimento a me. Quindi creare un vero e proprio passaparola offline. Ancora prima di utilizzare LinkedIn, ancora prima di fare le nostre ricerche in rete, è fondamentale acquisire un po' di autorevolezza e un po' di fiducia da parte delle persone che ci vedono nel quotidiano, quindi che ci conoscono tutti i giorni. Iniziare a creare il nostro circuito, la nostra rete offline, il nostro passaparola offline. Come ultima cosa è fondamentale ascoltare il mercato, renderci conto di quali sono quelle professionalità che sono richieste e quelle professionalità che in qualche modo stanno perdendo, lasciatemi usare questo termine, valore. Valore nel senso che non ci sono più tantissimi enunci di lavoro su quella professionalità. Dobbiamo acquisire una certa sensibilità e cercare di capire dove sta andando il mercato. Dobbiamo formarci oggi, come dico sempre io, formarci oggi per lavorare domani. Cambiare il settore professionale è veramente una mission impossible in Italia? La risposta è dipende da te, è tutta questione di mindset, è tutta questione di atteggiamento mentale. Che significa cambiare il tuo atteggiamento mentale? Innanzitutto cercare di capire che ci sono degli aspetti che tu non potrai controllare ed è fondamentale avere anche, perché no, un sostegno psicologico, una grande forza interiore nel volersi mettere in discussione, ma soprattutto l'aiuto, anche morale, delle persone che ti circondano. La famiglia, il tuo partner, il sostegno che ti può dare il tuo partner, parlo per esperienza personale, può essere veramente importante, soprattutto se, come è normale che sia, nei primi tempi, nei primi mesi in cui provi a metterti in discussione, non vedi da subito i risultati sperati, quindi devi battagliare in qualche modo, per emergere sul mercato. Soprattutto è da considerare un fatto, il fatto è che stiamo attraversando la più grave crisi economica e sociale dell'ultimo secolo. Sicuramente molte professioni scompariranno al termine di questa pandemia, ne nasceranno altre, come in tutte le grandi crisi che la storia abbia mai conosciuto e cambiare settore professionale potrebbe essere la scelta migliore nel caso in cui il tuo settore sia andato in crisi e tu non puoi aspettare i tempi troppo lunghi che richiede il mercato affinché quel settore professionale specifico si riprenda. Cambiare settore professionale in Italia è veramente una mission impossible. Giro a te questa domanda e sarò ben felice se vorrei rispondere, magari raccontare la tua esperienza in modo molto breve ed efficace qui sotto il video e nei commenti. Mi raccomando commentate, lasciate la vostra impressione su questo video, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se torniamo a parlare semplicemente di curriculum eccetera eccetera e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!